A Onna, le persone che hanno perso casa a seguito del terremoto, che ancora vivono nei MAP, almeno sino a fine 2024, non dovranno pagare i cosiddetti oneri condominali. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del Comune dell'Aquila contro la sentenza che aveva già dato ragione in prima battuta ai cittadini onnesi che sono stati rappresentati dall'Avvocato Fausto Corti. I cittadini hanno impugnato una delibera del Consiglio che imponeva ai residenti nei MAP di pagare, oltre al canone di locazione, anche un altro canone di con partecipazione per le spese di gestione e manutenzione delle parti comuni e di gestione amministrativa e contabile degli immobili. Per il TAR non si può porre a carico dei cittadini però un importo astratto equiparando i MAP ai progetti case. Una storia che era iniziata con l'allora sindaco Massimo Cialente ma che anche l'amministrazione Biondi ha proseguito. Sia il TAR che il Consiglio di Stato hanno dato ragione alla nostra tesi secondo cui per quanto riguarda i MAP non c'era nulla da manutenere nel senso che la richiesta del Comune riguardava o interventi straordinari che quindi ricadevano sul proprietario e quindi sul Comune stesso oppure delle interventi manutentivi che però non erano stati precisamente individuati perché riguardavano impianti che in realtà sono propri del progetto case ma non sono propri dei MAP quindi si parlava di ascensori, di centrale, di riscaldamento comune. Quindi i MAP che come tutti sappiamo più o meno sono delle piccole unità immobiliari autonome che hanno il loro impianto, che non hanno riscaldamento, che non hanno luce comune, erano esenti da queste spese e il Comune non poteva mettergliele a carico. Grazie. 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 Grazie.